e con grande piacere che annuncio l'uscita del primo volume della serie Bacchi l'Italia è il coronamento di un progetto lungo che va avanti da tanti anni e che coinvolge sia la mia attività di musicologa sia quella di artista si tratta di una serie che cerca di esplorare i rapporti bidirezionali tra Bacchi l'Italia studiando come Bacchi fu ispirato dalla musica italiana e a sua volta ispirò i compositori italiani. Il primo brano che troverete in questo cd è un concerto di Marcello per Ovoe trascritto da Johann Sebastian Bach per strumento a tastiera. Bach trascrisse diversi concerti di autori italiani per strumento a tastiera con lo scopo di impadronirsi del loro linguaggio e anche di fare una sorta di esercizio di stile. Il concetto italiano è un po' il risultato di questo confronto tra i di Johann Sebastian Bach e la musica italiana. Il concetto italiano è un po' il risultato di questo confronto tra i di Johann Sebastian Bach e il primo brano che conclude la seconda partita per violino solo di Johann Sebastian Bach e che presento nella versione di Johannes Brahms per la sola a mano sinistra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.